Ciao, sono Valentina e oggi ti voglio parlare di un concetto estremamente importante per manifestare con successo, ossia che è necessario passare dal pensare a al pensare da. Te lo spiego in questo video. Un concetto di cui parla sempre Neville Goddard all'interno dei suoi libri è quello che ci dice che è necessario smettere di pensare a ciò che noi desideriamo e quanto invece sia fondamentale iniziare a pensare dalla prospettiva di coloro che hanno già ottenuto ciò che desiderano. Questo diventa estremamente importante per la nostra manifestazione perché una cosa che accomuna il processo di manifestazione con per esempio la legge di attrazione è il fatto che noi non otteniamo ciò che vogliamo quindi non attraiamo o riflettiamo ciò che vogliamo ma andiamo ad attrarre o a riflettere della nostra realtà 3d ciò che noi siamo ed è proprio per questo che il concetto di sentirci la persona quindi la versione di noi che ha già ciò che desidera è la chiave per riuscire a manifestare con successo è proprio per questo che è necessario passare dal pensare a ciò che desidero all'iniziare a pensare come colei che ha già ciò che desidera quindi iniziare a pensare dalla prospettiva del desiderio realizzato quindi dalla prospettiva di me stessa che è già nella situazione nella condizione di avere e di vivere ciò che vuole infatti uno degli errori che spesso facciamo quando iniziamo a praticare per manifestare consapevolmente è credere che pensando o meglio che solo pensando a ciò che noi desideriamo quindi interpretando il vivere nel desiderio realizzato come semplicemente usare la nostra immaginazione per pensare a quando avremo quello che desideriamo quindi nel caso della vita sentimentale pensare a quando saremo con quella persona specifica oppure pensare a quando saremo nella relazione che sogniamo da sempre questo crea come una separazione tra noi tra la versione di noi nel momento presente e quella che teoricamente ci sarà quando avremo ottenuto ciò che desideriamo questo chiaramente crea un problema nella nostra manifestazione perché perché andiamo ad usare la nostra immaginazione per vivere nel desiderio realizzato quindi magari a fare pensieri che fanno riferimento a come saremo e a come ci sentiremo quando avremo ottenuto ciò che noi vogliamo e ci dimentichiamo invece di quanto sia importante incorporare quella versione di noi adesso proprio perché come dicevo prima il processo di manifestazione riflette nella nostra realtà esterna ciò che noi siamo e non ciò che noi vogliamo per cui se io desidero tanto avere una relazione con quella persona specifica o desidero tanto a incontrare una nuova persona con cui costruire la relazione che desidero da sempre ma non solo questo vale in tutti gli ambiti della nostra vita quindi se io penso che il mio desiderio sia avere più soldi quindi avere più denaro o avere un determinato tipo di lavoro ma lo faccio dallo stato d'essere attuale che non ha questo tipo di cose anche se io faccio questi pensieri crea una distanza tra me e quello che io voglio invece il processo di manifestazione funziona solo ed esclusivamente se io riesco ed alimento dentro di me nella mia realtà interna lo stato d'essere attuale dico lei o di colui che ha già ottenuto quello che vuole ed è per questo che diventa importantissimo fare questo passaggio quindi spostarci dal pensare a ciò che noi desideriamo al pensare dalla prospettiva quindi che cosa significa significa che se io faccio dei pensieri che mi proiettano in un futuro in cui avrò quello che desidero è molto diverso dal fare dei pensieri dalla prospettiva della mia versione che in questo momento ha quello che vuole perché perché i pensieri che io genero dalla versione di me che ha già quello che vuole quindi che ha già la relazione che desidera che è già insieme a quella persona specifica sono molto diversi dai pensieri che creo invece quando penso solo al desiderio ma non lo faccio dalla prospettiva di colei che l'ha già ottenuto ma lo faccio dalla prospettiva di colei che non ce l'ha ancora ed è per questo che questa separazione che creiamo tra la versione di me in questo momento che non ha ciò che vuole e la versione di me che invece vedo proiettata nel futuro che avrà quello che vuole questo spazio che c'è tra queste due versioni di me che io sto mettendo in campo rallenta la mia manifestazione o addirittura alle volte la blocca la chiave è sempre è solo sentire questo è un principio importantissimo no di cui parla sempre neville goddard e si connette strettamente a il concetto a tutto quello che gira attorno alla legge di assunzione la legge di assunzione ci dice che è necessario che noi assumiamo in questo momento la versione di noi che vogliamo essere ma ripeto non è proiettando questa versione di noi nel futuro o comunque distante da questo momento assumere significa assumerlo adesso e sentirci sì adesso in quel modo ora questo è chiaro che può diventare faticoso nel momento in cui io non ho fiducia nel fatto che possa accadere infatti come dico sempre la prima azione che è necessario fare è quella di alimentare dentro di noi la consapevolezza che per che ci sia la possibilità di ottenere quello che vogliamo perché se io già in partenza penso che non è assolutamente possibile per me stare con quella persona specifica o che sulla base di ciò che mi è accaduto in passato non potrò mai avere la vita sentimentale che voglio la famiglia che voglio il partner che voglio chiaramente questo poi andrà a manifestarsi nella mia realtà esterna quando è così diventa inutile praticare con le tecniche di visualizzazione di affermazioni di scripting di qualsiasi tipo di tecnica perché chiaramente quello che veramente conta è il mio stato d'essere attuale quindi ricordati sempre quando formuli le tue affermazioni quando magari usi l'immaginazione attraverso le visualizzazioni ricordati sempre che quello su cui ti devi focalizzare non è tanto l'obiettivo finale inteso come qualcosa distante da me che ancora non c'è ma è assolutamente necessario iniziare a ragionare a pensare e a scegliere dalla prospettiva della versione di me quindi della parte di me perché quando io dico della versione di me non è qualcosa che non esiste tutto ciò che tu credi di poter essere sei nel senso che ci sono tutte le opzioni no in termini quantistici tu hai tutte le possibilità tutte le versioni di te no dipende solo quale tu scegli di essere o su quale tu scegli di focalizzarti per cui se scegli di focalizzarti sulla versione di te che in questo momento non ha ciò che desidera questo non significa che non esista la versione di te che invece ha già ciò che desidera l'unica differenza la fa il fatto di dove tu decidi di puntare il tuo sguardo dove tu decidi di focalizzare le tue energie ovviamente questo ha anch'esso a che fare con come dicevo prima quello che tu ritieni di essere meritevole quindi se tu ritieni di essere meritevole di quel determinato risultato se ti riesce difficile iniziare a pensare dalla prospettiva di colei o colui che ha già ciò che vuole la prima cosa che ti devi chiedere è perché perché non credo che sia possibile per me essere la donna amata dal suo partner essere la persona che vive la relazione dei suoi sogni essere la persona che ha la casa che vuole che ha il lavoro che vuole che guadagna i soldi che desidera perché ho creo questa resistenza e non riesco a immaginare me stesso o me stessa che ha quel determinato tipo di risultati di obiettivi perché se a questa domanda la tua risposta continua ad essere perché non è mai non è mai successo perché ormai con tutte le esperienze che ho avuto che sono sempre andate in un certo modo sicuramente anche anche quelle future andranno in questo modo oppure se magari pensi è impossibile che io abbia la relazione che desidero perché non ne sono meritevole perché non sono abbastanza perché devo perdere chili perché devo essere più intelligente più brillante tutto quello che vuoi significa che è necessario che tu torni su il tuo amor proprio ricordandoti sempre che la pratica ha a che fare con l'allenare la nostra mente a abituarsi all'idea di poter ottenere tutto quello che vuole abituarsi all'idea che puoi veramente essere chi vuoi essere perché noi siamo i creatori della nostra realtà per questo quando inizi a pensare a ciò che desideri inizia a chiederti se io avessi già in questo preciso momento ciò che desidero che tipo di pensieri farei che tipo di azioni che tipo di scelte farei una volta che riesci a creare a vedere te stessa o te stesso da fuori perché chiaramente se non ti viene naturale pensare dalla prospettiva di colei o di colui o comunque della versione di te che ha già quello che vuole la cosa principale da fare inizialmente è quella di guardare te stessa o te stesso da fuori ma guardare la versione di te che ha ciò che desidera e iniziare come ti dicevo a chiederti come agiresti che pensieri faresti te lo chiedo io se tu in questo momento fossi nella relazione dei tuoi sogni che pensieri faresti che cosa quali sarebbero le tue azioni le tue scelte probabilmente non saresti qui a guardare questo tipo di video no magari perché perché non saresti non avresti la necessità di andare a lavorare maggiormente per praticare manifestare la vita sentimentale che desideri quindi i tuoi pensieri andrebbero da un'altra parte la tua tranquillità il tuo stato d'animo sarebbero differenti da quelli attuali perché perché ti sentiresti amata o amato ti sentireste all'interno di una relazione in cui ti senti sicura in cui dai il meglio di te ricevi il meglio di te vivi la vita e la quotidianità sapendo di essere all'interno di una relazione che ti fa stare tranquilla o che ti fa stare tranquillo che ti dà benessere e proprio su questo su questo terreno faresti tutta una serie di pensieri che ripeto non sono gli stessi pensieri che probabilmente fai adesso perché adesso non hai ancora quello che tu desideri ecco il nostro lavoro nella pratica è quello di andare ad allenare la nostra mente sempre di più sempre di più attraverso la ripetizione attraverso la pratica costante perché io ti assicuro che se tu pratichi con costanza ottieni ottieni i risultati che vuoi perché la realtà funziona così la realtà è il nostro riflesso è specchio di ciò che noi siamo quindi nel momento in cui tu incorpori la versione di te quindi inizia a pensare da la prospettiva di colei o colui che ha già questa relazione che ripeto non vuol dire far finta di avere qualcuno a fianco preparare la tavola per due anche se poi mangi da sola perché non è questo assolutamente ha a che fare con il sentire ha a che fare con il contattare quella sensazione quelle emozioni che sono proprie della me che vive già serenamente avendo ciò che desidera e tu hai tutte le capacità per poterlo fare tutti noi abbiamo la capacità per poterlo fare attraverso l'immaginazione l'immaginazione è il nostro strumento più grande perché ci permette di creare una realtà che il nostro cervello nel tempo lo vivrà come reale lo vive come reale la nostra mente non è in grado di distinguere le emozioni di una cosa che accade veramente nella realtà 3d rispetto alle emozioni che accadono semplicemente della nostra immaginazione ne riprova il fatto che quando ci viene in mente magari un ricordo o non lo so sentiamo un brano musicale oppure non lo so un profumo o una frase di un certo tipo che ci ricorda e ci riporta in situazioni in ricordi e in esperienze fatte che ci hanno fatto del male quel dolore riaffiora e lo viviamo in quel momento esattamente come quando l'abbiamo vissuto veramente nella realtà esterna eppure non sta accadendo non sta accadendo di nuovo è la nostra mente che ritorna a quel ricordo a quell'esperienza e la vive nuovamente come se stesse accadendo ora quindi se riusciamo a farlo in maniera tra l'altro del tutto involontaria con ciò che ci ha fatto male bene questo significa che lo possiamo fare anche con tutto ciò che ci fa bene ed è per questo che in come dire insistere nella pratica del attraverso la ripetizione attraverso le varie tecniche quella che è più giusta per te riuscire a incorporare perché poi il concetto di incorporare esattamente questo è sentire sentirmi adesso la versione di me che per esempio ha abbondanza economica bene che persona sarei come mi muoverei nel mondo se io avessi abbondanza economica che pensieri faccio che azioni metto in atto se ho a fianco a me il partner che desidero da sempre e con cui sto vivendo la mia quotidianità come sono come vivo perché è esattamente contattando quell'emozione quel tuo sentirti in quel modo e continuando ad andarlo ad alimentare che poi è ciò che manifesti e che rifletti per forza per forza nella tua realtà esterna anche quando tu pratichi attraverso le affermazioni come dico sempre l'io sono è importantissimo no perché io sono ci connette al nostro stato d'essere attuale però è chiaro che se io inizio ad affermare io sono amata io sono amata da quella persona specifica io sono adorata da quella persona specifica io sono meritevole di amore io sono una persona straordinaria io sono una brava persona io sono una persona amabile quando noi ripetiamo questo tipo di affermazioni o andiamo a scriverle è chiaro che se lo facciamo dalla prospettiva della me attuale che non ha e non si sente in quel modo rimangono delle affermazioni ripetite ripetute così in modo meccanico ma che in realtà non hanno poi un vero effetto nella nostra manifestazione in particolare in quello che andiamo a riflettere è molto diverso se io quando affermo io sono amata e mi sento amata di fatto da quella persona specifica e continuo a ripetermelo a ripetermelo a ripetermelo ma come dicevo non è solo una ripetizione meccanica è continuamente poi sentirmi ci in questo modo sentirmi ci avere la certezza che questo accada e vi vivo la mia esistenza e la mia quotidianità con questa consapevolezza allora lì tutto cambia allora lì la realtà esterna non potrà che andare a conformarsi con questo mio modo di essere con questo mio modo di sentire con questo mio stato d'essere perché ripeto nuovamente anche qui alle volte mi senti ripetere più volte alcuni concetti all'interno dei video lo faccio appositamente perché ripeto la mente impara con la ripetizione quindi più la tua mente si abitua a determinate cose a determinati concetti a determinate frasi più le andrà a implementare sempre di più a le sue sempre di più a prenderne sempre più fiducia quindi se tu entri nell'ottica che sia così e comprendi che ottieni rifletti nella tua realtà esterna ciò che sei e non ciò che vuoi capirai quanto passare dal pensare a ciò che desidero passare al pensare da la prospettiva di me che ha già ciò che desidera cambia completamente gli esiti della nostra manifestazione oltre che ad accelerarla enormemente ti ringrazio infinitamente per essere stata o stato qui con me come sempre un grandissimo piacere e ci vediamo nel prossimo video